Direttore Rogero, ConfCommercio ancora una volta c'è a Expo Valle Roscia, vuole essere a Piovediteco con una piazza del gusto e un po', lo potremmo definire, un assaggio di tanti prodotti di alcuni locali del territorio. Sì, c'è ConfCommercio ma soprattutto ci sono gli operatori del gusto, quindi i ristoranti che propongono i prodotti del territorio rielaborati dai professionisti della ristorazione. Quindi una piazza che sarà da visitare e da assaporare, quindi da vedere ma soprattutto da utilizzare con il gusto e con l'olfatto per assaporare gli odori, i sapori di quelli che sono i prodotti tipici nella tradizione e che vengono messi in mostra nelle loro caratteristiche peculiari e migliori, proprio perché fatte dagli operatori locali. Un mondo fatto di persone che il territorio lo vivono tutto l'anno e che quindi ripropongono quella che è la loro attività proprio per mostrare al mondo qual è la caratteristica e la bontà di un territorio della Valle Arroche.